Sarebbe carino ricordare una cosa, adesso Branzi parlava un po' su tutte le storie, un po' un escluso sulle storie dei designers italiani, parlando delle figure, per quelli che io ho avvicinato, perché credo che quando sei giovane è quello che è carino di questo evento, che è regalare, dare questo aiuto a persone che comunque avevano veramente intenzione di studiare e prepararsi come designer. Per me è stato ricordare a loro, a questa gente giovane, che bisogna, quando sei giovane non hai bagaglio, sei leggero, non hai niente, perché hai pochissimo, ma puoi muoverti nella direzione che vuoi, avvicinarsi alle persone che per te sono interessanti, agli studi, agli aziende, a quello, avvicinarsi, cercare di stare vicino, capire, perché è un periodo dove tu hai più capacità di imprinting quando sei giovane, quando sei studente. Questo credo che sia un... io l'ho fatto, mi sono avvicinata, come si può dire, all'università, a Castiglioni, dopo Vico Magistete e a Magdalena di Padova, e fu per me un grande aiuto per il mio lavoro.